Come si può manifestare la volontà di Krishna? I piani che Krishna ha per noi se noi agiamo cercando di controllare e manipolare continuamente gli eventi e le relazioni, in modo che vanno a finire come noi decidiamo? How it is possible that Krishna will manifest his mercy if we try always to control and to manipulate the events and the relationship in a way that we can always, we always want to control our action. If we always want to control our... How is it possible to manifest the will of Krishna if we always try to control our actions and relationships? Just... First line. How it is possible that Krishna will manifest his mercy? Yeah. How he will manifest his mercy? Come Krishna potrà manifestare la sua misericordia? By controlling or by surrendering? Se noi controlliamo le nostre azioni o se ci arrendiamo a Lui. Se noi ci affidiamo allora potremo ricevere la misericordia. E se noi invece vogliamo controllare qualcosa allora non ci guarderà neanche. perché è Lui il vero controllore. Perché è Lui il vero controllore. È Lui il boss. Read. How Krishna will manifest his mercy if we always try to manipulate... Manipulate means I want to do... Manipolare che significa io voglio fare... Yeah, go on. Go. Read. Manipulate... We always... It's one to control. And we are attached to the result of the actions. You see? Mercy is far. La misericordia è lontana in questo caso. Asha liege jjana, Krishna bhaje, Krishna naita je. Who took the really shelter of Krishna. Krishna never did those. Krishna non lascia mai coloro che hanno preso un vero rifugio in Lui. Asha is important. Il rifugio è molto importante. Result is not my hand. Result is in your hand. I have to do my service. That's the thing. Il risultato non deve essere nelle mie mani, delle mie azioni. Ma lo dobbiamo mettere nelle mani di Krishna. E questo è il mio servizio. Everything is in your control. I'm in your control. What you like to use, you use it. I'm your instrument. Tutto ciò è in suo controllo. Io sono uno strumento. Tutto ciò che Lui vuole fare di me, lo può fare. Io sono uno strumento. Io sono uno strumento. Io sono uno strumento del tuo amore. Sì. Mi piace molto questa linea. Questa linea, questa frase. È uno strumento del tuo amore. Io sono uno strumento del tuo amore. Uno strumento del tuo amore. Understand? Non so. L'amore significa essere controllati, agire per l'amore di qualcun altro. Quello è amore incondizionato. Some keep conditional. Però la maggior parte delle persone agiscono in modo condizionato. Too much we try condition. Try to see unconditional. Noi pratichiamo le nostre relazioni sempre in modo condizionato. Ci aspettiamo qualcosa in cambio. Ma dobbiamo provare a praticare in modo incondizionato. All right. C'è alcun detto. Il tuo amore propone e Dio dispone. Il tuo amore propone e Dio ha dato. Sì. Siamo i pazzetti. Le marionette. Le pazzetti. Noi saremo controllati da Dio e quindi danzeremo a seconda della sua volontà. Understand? This is Krishna Consciousness. This is God Consciousness. Read lines. Same paper. Read more lines. This is finished. Just how it's possible Krishna manifest His mercy if also we are always attached to the result of our actions. Why not you make attachment to Him? Perché? Invece che l'attaccamento per le nostre azioni non creiamo un attaccamento verso di Lui. Può darsi che noi facciamo qualche azione, un lavoro ed arriverà un risultato negativo. E se noi accetteremo questo risultato negativo per noi, dopo un po' sentiremo che quella in realtà è stata una grande misericordia. In quel momento non è stato buono, era negativo, ma dopo ci accorgeremo che in realtà è stata una cosa molto positiva per noi. Io l'ho sperimentato da me stesso. Perché noi abbiamo una visione molto povera per guardare, quella del pieno divino.